Mi trovo in questa veste insolita di intervistatore, ma di un super personaggio che è il nostro direttore tecnico nazionale Sebastiano Corbo e ci troviamo proprio a casa delle squadre nazionali di pesistica olimpica. Perché siamo qua? Per cercare di raccontare un pochettino quello che il Consiglio federale nella riunione di sabato ha deciso in termini proprio di innovazioni, di nuova struttura sia dal punto di vista dell'organizzazione tecnico-sportiva che delle decisioni funzionali, avendo approvato il bilancio preventivo del 2023, sugli impatti che queste decisioni hanno sull'organizzazione delle squadre nazionali e dei nostri atleti. Io direi Sebastiano di partire un pochettino dal perché poi il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente Tua, ha dato seguito a queste innovazioni. Perché è cambiato il modello di qualificazione olimpica? Per noi che cosa vuol dire questo nuovo modello in poche parole per te? È cambiato il modello di qualificazione olimpica, mentre in quella precedente avevamo una situazione dove dovevamo accumulare del punteggio per poter poi arrivare alla fine della qualifica ad essere dentro i 14 atleti che si presentavano alle Olimpiadi. In questa qualificazione ci si presenta invece con 10 atleti finalisti e questi 10 atleti finalisti hanno un iter diverso di qualificazione laddove devono andare a cercare il massimo risultato in una delle sette gare. Per poter fare questo era necessario andare a cercare il risultato a gara secca e quindi quegli atleti che sono diventati qualcuno in più rispetto a quelli della passata qualifica, abbiamo la necessità di attenzionarli diversamente proprio dal punto di vista del risultato che gli concederà di poter essere qualificati alle Olimpiadi. Siccome in queste sette gare non è detto che tutti gli atleti vadano a farla nella stessa competizione ma in queste sette competizioni si potrà decidere in funzione dei cali peso, in funzione della crescita perché ce ne sono anche molto giovani che vengono dalle giovanili degli anni passati e quindi è necessario prestargli un attimino più attenzione e siccome nel quadriennio precedente, nei due quadrienni precedenti, le giovanili facevano strada insieme agli atleti della qualifica olimpica, abbiamo preferito sezionare un pochettino quella che è tutta la struttura della direzione tecnica e fare in modo che le giovanili abbiano un assetto diverso benché all'interno della stessa struttura. Mi sembra giusto, praticamente cambiato il modello di qualificazione olimpica è stato necessario cambiare anche il modello organizzativo delle squadre nazionali, organizzativo, tecnico e un po' più in generale. Cambiarlo in funzione non solamente di quello che può essere Parigi 2024 ma di quello che sarà l'iter delle qualifiche olimpiche degli anni successivi. Sì perché noi avendo qua dentro come tutti sanno sia gli atleti delle squadre nazionali olimpiche e quelli delle squadre nazionali giovanili noi dobbiamo guardare all'oggi e al domani e al prossimo domani per cui queste cose stanno insieme non è possibile scindere questi aspetti. Assolutamente no. Per cui noi dovevamo dare attenzione ovviamente nell'immediato alle squadre olimpiche ma anche con la stessa forza e con la stessa attenzione a quelli che saranno i nostri giovani di domani. Assolutamente nel vedere che questi giovani saranno gli olimpionici di domani c'è da andare a curarlo in maniera più selettiva anche perché nell'iter delle olimpiadi prendiamo il 2028 ci ritroviamo anche ad affrontare le olimpiadi giovanili che sono un trampolino di lancio esagerato in termini di esperienza per i futuri olimpionici. Benissimo per cui su tua ovviamente proposta assecondata dal presidente federale che ha condiviso il consiglio federale in pieno è stato riorganizzato la struttura della direzione tecnica nazionale. In sostanza tu ovviamente mantieni il ruolo di direttore tecnico nazionale delle squadre nazionali olimpiche sia senior olimpiche che giovanili però hai ripartito tra il tuo staff dei compiti un po' più specifici in funzione di questo nuovo modello proprio perché funzionale a questo nuovo modello di sviluppo. Ne va dell'alto livello anche in termini di attività giovanile e cioè sono sicuro che dividendo un attimino quelli che sono i compiti e dando delle responsabilità diverse anche agli allenatori che voglio dire alcuni sono belli cresciutelli hanno una bella esperienza. Abbiamo la possibilità di far crescere la qualità e poi proprio per far crescere la qualità che sta dentro le nostre strutture siamo andati a rivedere anche quello che viene da dietro a partire dall'ostena Trony Young che riprende un pochettino quello che prima la CNAG, la struttura, la commissione che si occupava dell'attività giovanile, della promozione dell'attività giovanile ha fatto ma abbiamo potuto constatare che nell'ultimo periodo era necessario cambiare proprio in funzione di quello che le istituzioni sportive ci hanno indicato. Esattamente, mi hai dato un bello spunto perché questa è un'altra delle grandi innovazioni strutturali che ha deliberato il Consiglio federale sabato. In pratica quello che stai dicendo proprio questo, quello che la commissione nazionale giovanile scolastica che ha lavorato benissimo in questi anni ha fatto dei grandi progetti però era in un contesto un po' avulso dal resto dei processi. Lo è diventato nell'arco degli anni. Si è un po' scollegato e il Consiglio federale ha inteso, ha recepito questa indicazione tecnica strutturale e l'ha riportato all'interno della direzione tecnica nazionale. Per dare proprio un continuum a quella che è l'attività giovanile scolastica fino a quello che sarà l'altissimo livello. Esatto, che diventerà comunque l'attività quella che viene promossa all'interno delle associazioni sportive, viene promossa, viene così inoltrata anche a quello che è il mondo scolastico e questo mondo scolastico con quella che è praticamente l'attività dei primi passi dell'attività giovanile dettata dalle associazioni sportive e praticamente non fa altro che contribuire al grande reclutamento di questi giovani che serve esattamente per fare il passo successivo con la nostra organizzazione che in questo caso è il Fipe Factory che ha la possibilità di setacciare bene tutto quello che serve per andare a scoprire quei talenti che provengono da quell'attività sportiva fatta dalle associazioni e dal mondo scolastico in comunione con quello che è il lavoro delle… Un processo di continuità. Devo dire che la federazione era stata lungimirante perché l'hai detto te, il progetto Fipe Factory in questi anni aveva già cercato di creare quel collegamento tra la base. Quello che però in qualche maniera ci mancava era tutta una fase di investimento proprio sui settori giovanili in termini di reclutamento di base e da questo punto di vista è venuto in soccorso questo… Ma infatti non è che la CNAG non facesse un discorso… Si mancherebbe altro certo. Entrava nel merito della scuola e si cercava di fare… e che poi quel mondo scolastico era avvulso da quello che invece era il lavoro delle associazioni sportive. E qui è intervenuto questo grande, questa innovazione degli 80 milioni che sono stati messi a bando da Sport e Salute con un progetto che la federazione ha presentato ed è riuscita vincitrice di questo bando perché è stato finanziato integralmente il progetto e ci consente proprio di alimentare con nuove progettualità tech e risorse economiche questa fase di reclutamento alla quale noi agganciamo il Fipe Factory che è l'anello di congiunzione con l'altissimo livello. Questa è un po' l'idea, no? Si, l'idea è questa e non è solo questa perché all'interno di questo progetto, benché magari alcuni possano vederlo o possano non vederlo. C'è un altro fattore molto importante che è quello di far crescere moltissimi tecnici che possono dar manforte a tutto il movimento sportivo perché comunque il progetto prevede sì la crescita e il reclutamento di molti giovani ma anche di molti giovani tecnici formazione e aggiornamento di questi ragazzi. Assolutamente. Dico altre due cosettine che sono state molto importanti deliberate dal Consiglio federale a mio avviso. Uno è questo alimentare e finanziare questo progetto di videoanalisi che sarà proprio istituito all'interno della palestra qui del CPO assieme ai lavori di ristrutturazione che il Comitato Olimpico Nazionale ha fatto proprio riconoscendoci il valore del lavoro che stavamo svolgendo. Questo progetto di videoanalisi che servirà a voi tecnici per analizzare sul campo immediatamente le alzate, il gesto tecnico, correggerlo, farlo vedere ai ragazzi, alla federazione per crearsi una banca dati di video per poter anche alimentare le attività di formazione e più in generale per avere un riscontro generale su quelle che sono le attività mediatiche anche della preparazione e degli allenamenti delle squadre nazionali. Tu ci credi molto a questo progetto? Io ci credo molto e oltretutto ha una funzione ulteriore che è quella della formazione perché noi da questo progetto quello che viene fatto all'interno delle nostre strutture viene neanche esportato tutte quelle che sono le regioni là dove noi facciamo la formazione dei tecnici e quindi abbiamo la possibilità di esportare anche in tempo reale quello che noi facciamo all'interno delle strutture. E siccome delle volte non è facilissimo anche con tutto quello che la tecnologia oggi ci offre non è poi facilissimo riportarlo. Abbiamo fatto e creato uno strumento che possa essere di più facile raggiungimento dell'obiettivo insomma della parte tecnica. Ottimo. L'ultima cosa che mi sento di ricordare tra le tante delibere del Consiglio federale è che è stata istituita la Commissione sulle tematiche di genere. Questo è un tema molto caldo, diciamo così molto sentito. La federazione è sempre stata abbastanza all'avanguardia su questo perché poi il nostro sport non crea nessun tipo di disparità. Dieci categorie maschili, dieci categorie femminili. Il Consiglio federale ha tre donne al proprio interno, tecnici, vengono trattati tecnici uomini e tecnici donne alla stessa maniera, premi per atleti, stipendi per atleti, compensi per tecniche, sono tutti alla stessa identità. Però è necessario approfondire ulteriormente questo tema. Il Consiglio federale ha avuto questa sensibilità, il Presidente, di istituire questa commissione sulle tematiche di genere proprio per monitorare questi processi per capire se la federazione è sulla strada giusta e intervenire laddove ci fosse necessità. Il Consiglio federale ha poi deliberato tutta una serie di altri provvedenti tra cui il bilancio preventivo 2023 e tutti gli incarichi tecnici e di funzionamento per cui da oggi, perché il Consiglio è stato sabato, si comincia a lavorare sul serio. Buon lavoro e in bocca al lupo per tutte le vostre cose. Grazie a tutti.